La sindaco russo in un sopralluogo nella galleria San Silvestro con l'ANAS e i carabinieri. I lavori procedono regolarmente, crono programma rispettato, l'apertura della galleria chiusa a causa di un crollo durante un ubifraggio nel novembre scorso sarà riaperta, dice il primo cittadino, entro la fine di giugno. Intanto domani saranno sospesi i cantieri sulla A14 fino a metà settembre per evitare ulteriori disagi estivi. Ma torniamo alla galleria di Francavilla la cui chiusura ha causato tanti disagi e li sta provocando ancora. Inizia dunque il conto alla rovescia per la sua riapertura. Ho fatto un accesso in galleria due giorni fa su autorizzazione richiesta ottenuta dalla procura e ho incontrato gli ingegneri dell'ANAS che mi hanno garantito il rispetto del crono programma che ci era stato dato, e cioè 120 giorni dai primi di marzo. Quindi ritengono di poter ultimare i lavori entro fine giugno o primi di luglio. Spero che veramente questo termine venga rispettato perché la chiusura della galleria nel periodo estivo a Francavilla, ma non solo a Francavilla, in tutto il territorio limitrofo, creerebbe grandissimi disagi, così come li sta già creando. E già sono stati raggiunti dei risultati, insomma sì, c'è l'autostrada gratis. Sì, allora la gratuità del pedaggio è un'altra battaglia che ho portato avanti insieme al rispetto dei termini per la riapertura della galleria. È sicuramente un aiuto ma non è sufficiente. Occorre riaprire la galleria e occorre che la galleria venga riaperta in assoluta sicurezza. Ho potuto verificare che stanno facendo dei lavori molto puntuali e certosini, non solo sul tratto in cui si era verificato il crollo, ma su tutta la parte di galleria che ha le modalità costruttive uguali a quelle del crollo. Quindi circa 500 metri sono stati oggetto di intervento, oltre ai lavori esterni di raccolta delle acque, sistemazione delle acque e così via. Mi hanno anche detto che se ci sarà bisogno di fare ulteriori lavori, cercheranno di farli durante la notte con chiusure notturne. Per quanto riguarda il traffico, c'è stata qualche novità oppure ci sono dei disagi ancora? I disagi ci sono, sono evidenti a tutti. I problemi di traffico, di ammaloramento degli asfalti, problemi di inquinamento atmosferico. I disagi ci sono soprattutto nella zona nord di Francavilla. in alcune fasce orarie, devo dire non in tutta la giornata, ma con l'aumento dei turisti, cioè la città triplica, il numero di abitanti triplicherà, non oso immaginare cosa potrebbe accadere se non riaprissero la galleria. Tra l'altro la chiusura della galleria, insomma, dopo quello che è successo, sta creando disagi non solo ai cittadini, agli automobilisti, ma anche ad altre categorie. Ma certamente, tutte le attività commerciali e gli operatori economici della città, perché ovviamente chi da Pescara vuole venire a trascorrere una serata, una giornata qua a Francavilla o anche agli eventi turistici che faremo nei prossimi giorni, che avvieremo, ci rinuncia proprio sapendo del grande traffico che trova. Non resta che attendere allora la fine dei lavori ancora un mese e poi si spera la normalità.